Total panic, signori, al grande fratello VIP, ma soprattutto per Oriana Marzoli. Quando ha fatto una scoperta allarmante, la concorrente è rimasta inizialmente così, esterefatta. Poi è arrivata subito, la preoccupazione ha iniziato ad avere la meglio su di lei, fino ad arrivare al momento del pianto definitivo. C'è stata alta tensione all'interno della casa, con l'influencer che ha iniziato poi a correre verso il confessionale, dove ha chiesto un confronto con gli autori. Gli altri vipponi sono stati molto chiari nei riguardi della venezuelana, che è praticamente crollata. Durante una delle tante giornate, di tutto quel che succede sempre all'interno della casa, Oriana ha avuto una reazione emotiva molto forte dopo aver capito cosa le fosse successo. Lei qualche ora fa ha fatto discutere parlando con Daniele Dal Moro, e c'è da dire che Daniele ha cercato di farla innervosire, ma lo ha cercato di fare di proposito. Se ti sei beccato Antonino e non De Martino, non è colpa mia, cara bella. E questa è stata una bella punzecchiata. Ma a quel punto la bella venezuelana ha risposto e ha detto Amore, perché ancora non mi hai conosciuto, baby? Perché ancora non ci siamo conosciuti, baby? Non sono stati però vissuti momenti felici al grande fratello per Oriana Marzoli, che ha innanzitutto ascoltato attentamente ciò che le hanno detto gli altri vipponi. Il suo sguardo, che era abbastanza incredulo, ha fatto anche il giro del web. Infatti la geffina è rimasta praticamente sotto shock quando è stata informata di un episodio negativo. Le hanno riferito che aveva ormai perduto tutti i suoi seguaci su Instagram. Tutti, signori! Tutti! Sì, le lacrime sono scese copiose sul suo volto, che ha visto affondare anche i vari guadagni, no? E poi si è rifugiata nel magazzino, dove ha avuto un dialogo con gli altri coinquilini. Altri concorrenti hanno anche aggiunto ad Oriana che il suo account era stato chiuso addirittura, al fine di evitare la perdita ulteriore di follower. Lei, che lavora come influencer, è rimasta sbalordita da quella notizia e ha quindi pianto subito. Poi è venuta a sapere che si trattava solamente di uno scherzo, o orchestrato dai compagni di avventura. Ma ha reagito ugualmente in malo modo perché non avrebbero dovuto fare tutto questo. Beh, insomma, una cosa abbastanza grave. E visto che avevano intaccato il suo lavoro e quindi non si è divertito affatto. E, a parte tutto questo, sul web molti utenti hanno sottolineato questo scherzo, che è finito purtroppo nel peggiore dei modi. Un momento da, sì, dimenticare solo per lei perché per gli altri sono soltanto tante risate. E rimane l'amaro in bocca per lei di essere stata tradita altamente da tutti i compagni. Questo è tutto per quel che è successo. Io vi ringrazio per l'ascolto. Noi ci sentiremo alla prossima news, flash news, qui su Pausa Caffè.